Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento abbastanza complicato. Parliamo del KPI detta all'italiana KPI detta alla statunitense. Che cosa significa KPI? KPI è l'acronimo di King Pin Inclination, quindi appunto in italiano l'inclinazione del King Pin e il King Pin è l'asse intorno al quale ruota il fusello dello sterzo. La sua misura essendo un angolo si esprime in gravi. Questo parametro nelle auto con C-Hub come l'HB, come la Chiosho, come la Tecno si regola semplicemente cambiando il fusello. Esistono in commercio fuselli con varie angolazioni di King Pin, ad esempio nel caso di HB Racing abbiamo il KPI 0, 2, 4 e 6 che è quello che viene fornito di serie nella D8 World Spec. Nelle ultime versioni di auto elettriche abbiamo invece il 4 KPI, quindi abbiamo di serie 2 gradi in meno rispetto alla versione Nitro. Analizziamo adesso la differenza fra questi due tipi di fuselli, uno è da 6 KPI e l'altro è da 2 KPI. Come vedete quello da 6 KPI ha la parte superiore molto più lunga, quindi tracciando una retta attraverso i fori di ancoraggio, essa sarà molto più inclinata rispetto al 2 KPI. Cosa cambia usando questi fuselli rispetto a questi? La prima variazione importante è la riduzione dello scrub radius con tutte le conseguenze che essa porta. Non mi dilungherò tantissimo su questo argomento perché è un argomento vastissimo e molto complesso che merita un video dedicato. Prima o poi ragazzi farò un video anche su questo parametro, ma per adesso non ho ancora trovato il coraggio. Giro pagando su YouTube troverete tantissimi video che riguardano questo argomento appunto quello dello scrub radius e a mio modo di vedere il più interessante probabilmente il più bello e il più completo è quello fatto da JQ. Trovate anche una spiegazione completa e interessante dello scrub radius nel libro Invisible Speed che ho recensito ormai diversi mesi fa. Per sapere di cosa sto parlando vi lascio un link in alto a destra. Quindi un maggiore angolo di KPI riduce lo scrub radius all'anteriore. Tutto questo avrà un effetto rilevante sulla posizione e sul carico delle gomme anteriori durante la sterzata. Guardiamo adesso meccanicamente che cosa succede. Nella mia D8 ho montato alla vostra sinistra i fuselli 2 KPI e alla vostra destra i fuselli con 6 KPI. Ovviamente come vedete per compensare l'angolo di camber il tirante superiore è molto più chiuso con i fuselli da 6 KPI. Quindi ricordatevi quando fate i vostri test di compensare il camber quando cambiate il KPI. Chiedo scusa per l'interruzione, come sempre ragazzi vi chiedo di mettere un like per aiutare l'algoritmo a far prevalere i miei contenuti e per farmi capire che questo tipo di contenuti vi piacciono. Ovviamente per qualunque domanda o dubbio scrivete sempre nei commenti e se proprio volete fare l'unplane condividete anche il video. Bene buona continuazione. Ruotando lo sterzo si nota immediatamente che la porzione di gomma a terra è inferiore sul lato destro, quindi quello con il 6 KPI. Un'altra cosa che possiamo immediatamente notare è che con più KPI il mozzo si muove leggermente verso il basso quando sterziamo e lo fa in entrambe le direzioni. Quando si sterza in entrambe le direzioni le ruote saranno inclinate verso il terreno e questo genera una sorta di auto allineamento dello sterzo che si traduce in più stabilità. Anche il camber varia tantissimo più KPI equivale a minor camber nella ruota esterna durante la sterzata e maggiore nella ruota interna. Questo ha molta influenza sulla stabilità tanto da trasformare completamente il comportamento della vostra auto durante la sterzata. Ma andiamo più verso la sostanza. Cosa cambia nella guida? Dai miei test posso affermare che con un angolo inferiore di KPI otteniamo più sterzo alle basse velocità. La macchina risulta essere più incisiva sul primo tocco di sterzo e rende quindi complicato l'inserimento in curva. La macchina diventa molto nervosa ma a centro curva e in uscita di curva avremo una macchina più semplice in taluni casi quasi sottosterzante. Con un angolo di KPI più accentuato avremo invece un ingresso in curva molto più dolce quindi potremmo aggrapparci di più, forzare di più l'ingresso in curva ma una chiusura estrema a centro curva e in uscita di curva. Il pilota può quindi riprendere in mano l'acceleratore molto prima rispetto a un angolo di KPI inferiore. L'auto inoltre nelle curve ampie su piste veloci avrà una maggiore tendenza a tenere la corda e quindi aumenterà sensibilmente la velocità di percorrenza in curva. Per auto con C-Hub il range va appunto da 0 a 6 KPI mentre vi ricordo che le macchine con pivot ball arrivano anche a 10 11 gradi di KPI. Come dico sempre la gomma, la tipologia di pista, il setup complessivo ed il modello di auto che state utilizzando fanno la differenza sulle sensazioni di guida. Bene ragazzi spero che questo video sia stato utile, spero di aver arricchito un po' le vostre conoscenze su questo parametro di setup, spero di avervi messo un po' di voglia di sperimentare questo tipo di regolazione e ovviamente per i possessori di HB Racing metto in descrizione i link che vi portano a tutti i fuselli disponibili per la D8. E noi ragazzi quando ci vediamo ovviamente il prossimo mercoledì con un nuovo video, ciao!